Ciao a tutti, oggi prepareremo la confettura di albicocche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 75 minuti circa. Gli ingredienti sono la scorza del limone, dello zucchero, le albicocche e il succo di limone. Andiamo a preparare la ricetta. Mettiamo nel boccale la scorza del limone e una parte dello zucchero. Andiamo a polverizzare per 10 secondi a velocità a 10. Aggiungiamo sul fondo. Bene, dopo aver riunito sul fondo aggiungiamo il resto degli ingredienti. E adesso andiamo a cucinare senza mettere il misurino. Non mettendo al posto del misurino il cestello per 55 minuti. 95 gradi. Velocità 1. Adesso, dopo aver verificato la consistenza della marmellata, proseguiamo la cottura per altri 5-10 minuti a temperatura paroma. Velocità sempre 1. 0-10 minuti a temperatura paroma. E' controllata la consistenza della marmellata. Continuiamo la cottura per altri 5-10 minuti. temperatura paroma. Velocità 1. La marmellata è pronta. Andiamo a riporla in dei vasetti. Per riempire i vasetti, riponiamoli sottosopra fino al completo raffreddamento per poter far effettuare il sottovuoto. Confettura di albicocche! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!